Al centro meridiana, giovedì 11 e venerdì 12 giugno, dalle 17 alle 21, l'espressione conferma la regola. In Piazza degli Etruschi esibizioni di hip-hop, percussioni brasiliane e giocolieri. Potrai provare il writing su pannelli ed esibirti in gare di canto. E in Piazza Arena una parete per arrampicata ti aspetta. Scatena la tua creatività nel rispetto di tutti. Grazie.